oh raga è stata una passeggiata di salute mi sto mangiando le noccioline perché è una partita scontata era una partita già vinta un bel milan oggi ci siamo divertiti tutti gol di render spettacolare abbiamo vinto in ciabatte sta partita così si gioca ve lo dice anche tom guarda valedetto pioli pioli valedetto se va alla squadra completa vincevamo il campionato valedetto no comunque raga oggi finalmente torniamo a vincere torniamo a fare una prestazione bella fatta bene un milan volenteroso torna a segnare anche raffa leao e a prendersi gli applausi del pubblico raga penso che ormai secondo posto con questa vittoria qua non vi dico che è blindato perché ci manca solo la matematica ma alla fine l'abbiamo ottenuto mi spiace per l'anieri perché io gli auguro di salvarsi col suo cagliari però oggi sono stati davvero poca poca roba un milan superiore un milan si può dire devastanti oggi devastanti oggi siamo oggi siamo stati anche belli da vedere peccato che prendiamo sempre quei un gol un gol che ti fa arrabbiare tantissimo lo prendiamo sempre però adesso l'importante è finire la stagione come si deve e poi vabbè e poi qualcosa verrà cambiato sto vedendo gli ultimi due minuti questo questo era gol ma mano gol del 5 a 1 tanto è gol 5 a 1 li stiamo asfaltando raga ancora pulisic in infradito l'abbiamo vinto questo in infradito siamo troppo forti quando giochiamo bene siamo troppo forti raga sempre forza milan adesso ci beviamo ancora due birrette ci godiamo questa giornata penso che siamo tutti contenti di questa vittoria davvero era 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 ora era ora così almeno zittiamo il gobbo il gobbo del doctor che lui dice ancora che la sua squadra è più forte di quella del milan ma dove ma avete visto ma la juve più forte del milan dottor ma la juve più forte del milan maledetto milanista ha aiutato il sassuolo è vincere oggi per salvare il sassuolo è aiutato il sassuolo maledetto sì sempre forza milan grande vittoria ci vediamo domani che la ragioniamo meglio